Siamo al Bubble Tea House con Furibionda perché ha comprato Spider-Gwen per dire che finalmente farà il cosplay di Spider-Gwen No, no, che è negozato Ci ho provato, mi dispiace Però è una bellissima variant E si intona con l'ammobilio Esatto, è buonissimo che il Bubble Tea Ma farà il cosplay No, ok